E quindi c'è un'altra cosa, c'è evidentemente una tale disabitudine a capire cos'è la cultura per cui la traduzione dalla cultura alla vita pratica ci è diventata in qualche modo molto difficile non la vediamo, non la vediamo, anzi diciamo che questo discorso sta in avia pur essendo molto valido ci deve essere qualcosa che non va, forse non ne è discorso ci deve essere qualcosa nella nostra condizione umana che non va se è vero, se è sincero, se è sincero il riconoscimento cacchio è un discorso forte, è un discorso che dice delle cose vere e quindi c'è un'altra cosa, c'è evidentemente una tale disabitudine a capire cos'è la cultura per cui la traduzione dalla cultura alla vita pratica ci è diventata in qualche modo molto difficile non la vediamo, non la vediamo, anzi diciamo che questo discorso sta in avia pur essendo molto valido allora evidentemente noi non sappiamo più che cosa fare della cultura grazie 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 grazie